Degrado presso i bagni del cimitero comunale ad Agropoli, porte rotte, calcinacci, bagni fuori servizio, infiltrazioni d'acqua e sporcizia ovunque. Si presenta così la situazione attuale. La segnalazione arriva attraverso delle foto su Facebook da parte di una cittadina del posto che, indignata per la situazione che si protrae da tempo, ha postato diversi scatti fotografici per mostrare in che stato versano i servizi igienici al Camposanto. È arrivato il momento di condividere il degrado che, sotto gli occhi di tutti i cittadini, mi sono recata al cimitero nella parte alta nuova, sono entrata nei servizi igienici e, come si può ben notare dalle foto, i bagni sono inaccessibili, grazie a chi ancora non ha voluto in nessun modo quantomeno renderli accettabili. C'è una mancanza della cura del bene comune, denuncia la cittadina. L'appello dunque è all'amministrazione comunale di Agropoli di provvedere al più presto a ripulire e rendere dignitoso un servizio importante per chi ogni giorno, soprattutto gli anziani, si reca a trovare i propri defunti.